A Villa Bertelli è arrivata lei, Gianna Nannini, la più attesa di tutte nell'estate versiliese. La rocker senese ha bruciato tutti i record di stagione al box office della rassegna Forte Marmina con una vastissima platea di fan arrivati da tutta la Toscana e oltre per il suo Istorituro 2016. Uno spettacolo che non ha tradito le aspettative, tanta grinta, voce ed energia allo stato puro, ma anche emozioni con le sue canzoni più belle di sempre cantate a squarciagola dal pubblico. Voglio il tuo profumo E dammi tutto il tuo sapore Non ti prego non ti insaponare Se nella notte hai ancora un brivido animale Tra gli spalti anche tanti fan versilesi che intervistati da Paolo Barberi hanno ricordato il legame della Nannini con la Versilia. È un'amica di infanzia. Sì? Sì. E lei di dove? Io di Viareggio. E quindi lei veniva a Viareggio al mare e abbiamo passato tanti stati insieme. Noi è venuta su a Stazzema tanto tempo fa. Addirittura? Sì, è andata a un rifugio su delle montagne. Però l'abbiamo sempre seguita per televisione, ci piace. L'amore è bello solo se lo fai con me.